Musica 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 Questo corso di introduzione al doppiaggio vi insegnerà le tecniche di... No! Questo corso di introduzione al doppiaggio vi insegnerà le tecniche per diventare... No! Questo corso di introduzione al doppiaggio... No! 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 Questo corso di introduzione al doppiaggio vi insegnerà le tecniche base per... No! 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 Dicevo! Questo corso di introduzione al doppiaggio vi insegnerà le tecniche base per... Per imparare ciò che serve per diventare dei doppiatori. Questo dipende da voi. AAAAAH! Per fare un corso di introduzione al doppiaggio serve... Uno studio... Un fonico... Un microfono... Un copione... Dei docenti... Un fai! Un fai! Un fai! Un fai! La vostra voce... Un fai! 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 Un fai!